Cicerole elaborava un concetto, ne estraeva la parola chiave che lo rappresentava, trasformava la parola chiave in una immagine e associava l'immagine ai vari posti presenti sul percorso da casa sua al foro romano. Cosa doveva fare allora Cicerone per recuperare l'intero discorso? Gli era sufficiente ripercorrere mentalmente il percorso da casa sua al lavoro, recuperando tutte le immagini sequenzialmente collegate con i vari posti del percorso, ritradurre queste immagini in parole chiave e dalla parola chiave risalire al concetto iniziale elaborato.